Il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione per chiedere che la regione toscana si costituisse parte civile nel processo Banca Etruria. Abbiamo chiesto ai consiglieri regionali di dire da che parte stanno, di scegliere se stare dalla parte dei poteri forti delle banche o se stare dalla parte dei cittadini truffati, dei risparmiatori toscani truffati. Ovviamente il PD ha scelto di stare con i poteri forti e quindi ha votato contro la nostra mozione di buonsenso che per l'esima volta sceglie di stare dalla parte dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle è sempre dalla parte dei cittadini.